Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? Ho ciò che fa per te. Studio medico dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipodren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, tecar ultrasuoni, ionoforesi, tens, laser onde d'urto. Lo studio medico dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51. Telefono 075 800 16 08, ferronigino 60, chiocciolina gmail.com Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Pillole di saggezza grazie al dottor Gino Ferroni. Oggi parleremo di pillole dell'amore. Grazie Giada, oggi abbiamo un argomento, io lo definirei simpatico, perché si sta facendo un uso di queste pillole dell'amore chiamate dai pazienti, dai amici, il cosiddetto aiutino per avere qualcosa in più, per dare qualcosa in più. C'è un po' di confusione, ecco perché voglio dedicare qualche minuto a questo argomento. Confusione perché sono usciti tanti prodotti. Una volta la pillola blu, tutti sappiamo il nome, la faceva da grande. Poi sono uscite altre molecole. Si parlava della pillola del fine settimana. Alcune volte si è parlato della pillola super rapida. Qual è la differenza? Questi sono dei vasodilatatori, quindi chiaramente apportano più sangue e quindi fanno sì che ci sia una durata maggiore nello svolge, diciamo, questi, chiamiamoli così, momenti di relax. La pillola blu, che conosciamo, qual è la caratteristica? Che ha una durata, è la durata che cambia di queste sostanze. Questa blu e tante altre molecole che sono uscite, che contengono la stessa sostanza, sono gli alternativi, gli equivalenti, durano le 6, 7, 8 ore. La pillola del fine settimana ha una durata, chiamolo il fine settimana perché dura anche 48 ore. Si prende il venerdì sera e il sabato e la domenica uno è più tranquillo, è meno ansioso e può, naturalmente, ottenere qualche prestazione, forse, diciamo, più soddisfacente. Ora, ci sono anche nomi strani, c'è un nome stranissimo, già, come alcuni pazienti, mi sono venuti a me e mi hanno detto dottore, mi prescrive un tonno strano, tipo l'ostia, dico scusi, l'ostia non è... Loro lo intendo in questa maniera. È una piccola pellicola che viene posizionata sotto la lingua e ha una rapidità d'azione spaventosa, cioè, disegniamo, dopo 20 minuti già da un aiuto. Non ci sono controindicazioni, però si sta diffondendo l'uso, così, come fosse una sostanza qualsiasi, un integratore, è un farmaco, è un farmaco. Quindi parlarne un attimo con il medico, perché il 98% delle persone posso assumerlo, però, dato che è un vasodilatatore, chi ha problemi, magari, di ipotensione, chi ha problemi di emicrania o chi ha patologie particolari, magari, prima di assumerlo, fare una chiacchierata con il proprio medico. Effetti collaterali quali sono? Un po' di cefalea, lo può dare, c'è in chi più e in chi meno. Infatti, io, se lo consiglio ai miei pazienti, quando, magari, devo prescrivere la seconda scatolina, chiamiamola così, chiedo sempre se hanno avuto degli effetti collaterali, un po' di cefalea, arrossamento del volto, vampate di calore, senso di stanchezza. A quel punto cambio, cambio molecola, perché a volte ce ne sono tante che la molecola è la stessa, ma l'assorbimento cambia e quindi una può avere, pur essendo lo stesso principio attivo, con un'azienda può avere un tipo di disturbo, con un'altra azienda quel disturbo magari è diverso o è più lieve. Vanno assunte in ora, mezz'ora prima, come ho detto, due ore prima, e però tendo a precisare che non c'è da spaventarsi se ci sono questi piccoli effetti collaterali. Tanti le possono usare, i giovani le possono usare, consiglierei ai giovani, dato che stanno, ora anche questi giovani tendono ad usarli un po' troppo, di far forza sulle proprie forze, perché ce le hanno. Andando avanti con l'età, qualsiasi età, anche l'ottantenne, può prendere questo tipo di compresse. Non farne un abuso, non farne un uso sconsiderato, lasciar passare del tempo tra una compressa e un'altra, non sovrapporlo, faccio l'esempio, se uno prende la pillola del weekend deve sapere che dura 48 ore, quindi non può il giorno dopo prendere la pillola rapida, si sovrappone l'effetto, si possono avere delle crisi ipotensive, si possono avere anche degli svenimenti. Quindi è una sostanza che si può utilizzare tranquillamente, però magari le prime volte chiedere al medico se ci sono delle controindicazioni e fassero prescrivere le prime volte dal medico, poi uno può anche acquistarlo, ora ci sono anche tanti posti dove può essere acquistata, però la prima volta parlatene con il medico, perché almeno andate sul sicuro ed evitate degli spiacevoli inconvenienti. Pensando di avervi dato qualche consiglio, di avervi tranquillizzato se qualcuno l'ha usato e ha avuto questi piccoli effetti, quindi vi faccio tanti saluti e grazie per l'attenzione. Ringraziamo il dottor Gino Ferroni, medico estetico, vi ricordo che lo studio si trova in Via Firenze 51 a Bastia Umbra, Perugia, telefono 075 800 16 08 335 43 45 84. Il centro estetico progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione temporanea e definitiva e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in Via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351.